Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di raccogliere gli anelli al lago Languito. Il primo anello è qui, lago Languito è questa località. Il primo anello è qui, il secondo anello è dietro quella casa come potete vedere. Il terzo anello è in fondo lì e il quarto anello è dall'altra parte. Sono anelli ben visibili, non potete sbagliarvi, quindi una volta che siete atterrati al lago Languito non dovete far altro che raccoglierli.